Ci sono stati dei danni, ci sono stati crepe, più che tutto crepe, dato giù è andato giù un tetto vecchio. Tanta paura e nessun danno grave, secondo gli esperti poteva andare peggio vista l'entità del sisma 5.2 di magnitudo della Scala Richter alle 12.33 di ieri, epicentro in Lunigiana, proprio al confine tra la Toscana e l'Emilia. Il terremoto avrebbe potuto causare danni gravi alle case e anche vittime. I paesi colpiti maggiormente sono Fevizzano, in provincia di Massacarrara e Casola, ma la scossa è stata avvertita anche nei paesi della vicina Emilia, luoghi già martoriati dal sisma dello scorso anno. La terra ha tremato in forma più leggera in Liguria, ma anche in Piemonte, Veneto e Lombardia. Molte abitazioni sono rimaste lesionate, ma solo dei danni lievi, soprattutto nei centri storici dei paesi limitorfi all'epicentro. Un terremoto annunciato da una serie di scosse che si erano verificate qualche mese fa, tra gennaio e febbraio. A Casola alcuni sfollati hanno passato la notte in una scuola. Una scossa come questa era tantissimo tempo che non si sentiva. A mia memoria è la più forte. Queste le parole di Paolo Fantoni, sindaco di Piazza Alserchio, uno dei comuni della Garfagnana. In tutta la zona interessata i vigili del fuoco hanno mappato i danni dello sciame sismico durato quasi tutta la giornata. Si sono contate oltre 60 scosse, la replica più forte del quarto grado, poco dopo le 14. Scossa che ha interrotto anche il ministro Josefa Idem, mentre parlava di pari opportunità nella sala tricolore di Reggio Emilia. Il ministro ha lasciato il palazzo preoccupata.